Buongiorno a tutti, sono Nicole, dei colori che indosso non si può non capire che sono innamorata della squadra più bella del mondo. Detto questo, stasera ci prepariamo per il match contro lo Spartapraga, una partita che ci fa stare tranquilli perché comunque il turno l'abbiamo già passato, di fatti rimangono di riposo, Cialanoglu, Romagnoli e Donnarumma. Rientra Leao, anche se rimangono fuori purtroppo ancora Kier e Ibrahimovic, il quale si prevedeva potesse rientrare contro il Parma, ma purtroppo si prevede uno slittamento anche se non si sa nulla in realtà di ufficiale fino a domani che avrà le visite mediche ufficiali. Quindi incrociamo le dita per vederlo presto in campo e sempre Forza Milan!